Un'indagine a tutela dell'imprenditoria sana è che ha condotto all'arresto di tre impresari accusati di banca rotta fraudolenta. Nell'ambito dell'operazione Goldbot la guardia di finanza di Catania ha sequestrato beni per un valore di oltre 15 milioni di euro ai danni di Antonio Ranieri, amministratore dell'azienda di 73 anni e dei due figli Francesco e Raffaele di 46 e 45 anni in qualità di soci. La società colpita è la 7 impianti SRL di Augusta attiva nel settore della costruzione di imbarcazioni e di impianti industriali e ora con debiti pari a 20 milioni di euro. Ad insospettire gli inquirenti la decisione della 7 impianti di spostare la sede a Catania pur continuando ad operare tra Augusta e Siracusa, una scelta secondo i magistrati dettata dalla volontà di svuotare l'azienda a vantaggio di altre società del gruppo Ranieri. Nel 2012 si costituisce un consorzio con tante società galassie riconducibili proprio a Ranieri spiega Alberto Anastasia colonnello della guardia di finanza. I finanziamenti per le quote di partecipazione delle varie società le forniva la ditta già in rosso. Per raggiungere questo obiettivo inoltre venivano versate anche somme di denaro ai familiari registrandole come rimborsi spese. I tre si trovano ora agli arresti domiciliari mentre a guidare l'azienda saranno tre amministratori giudiziari nominati dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania che avranno il compito di far rientrare la 7 impianti dei debiti.